a Signorano piccolo, buongiorno Buongiorno E vedi che c'è sto Cristiano che la volessi parlare con lei Ma la cosa cercava me Sì signora, ecco, buongiorno Io sono un reporter, si accomodi Un reporter di Radio Capo Centrale E allora cominciamo a spalmare il prodotto Su questo individuo Ecco, basterà poco, poco prodotto Basta poco, basta poco, basta poco in tutto il corpo E adesso al mio 3 si trasformerà A negli occhi 1, attenzione 2, 3 E voilà Applauso Dalla speranza Dificcine vogliamo Bravo Bravo Mi lascio, mi lascio lavorare Stavo presentando La crema May Che ti trasforma immediatamente in un gay E allora E allora E la prossima settimana Presenteremo una crema Per fare sparire i ragionieri Va bene E allora Vedo che quasi molto è a posto Ciao